Non so se avete visto le ragazze che ci sono parlate telepaticamente. Ma chi ne ha detto? Ma no! C'erano scritte che si leggevano, erano i loro pensieri telepaticamente. Ma chi può dirlo? Mi farò vedere, ma quale telepatia mettere delle voci fuori campo sui primi piani si chiama fiction? Ma infatti, ho montato... Povero Red, minchia come sei messo male. Beh, sono male. Non sono messo male, mi farò vedere. Eh? Quella non è fiction, è telepatia, mi farò vedere. Ma no! Lo so di cosa parlo, mi farò vedere. Segretaria, volevo facciare un appuntamento, scimmerti, dimmi, farò vedere. Ah, vede? Non dovete aver paura della verità, la verità sta dentro di te. Ma chi? Dentro di me. Ma quale verità? Dentro di lei, dentro di noi. Ma quale verità? Sta dentro Fasabur. Fasabur? Chi è? Che è il dio della telepaticamente. Ah, il dio della telepaticamente. Se tu fossi venuto a Senigallia a fare l'home connettivo, avresti capito che quando Bruce Willis, in Sin City, a un certo punto Bruce Willis, in Sin City, guida, si sente la voce, ma non si vede lui che muove la bocca. È il suo pensiero, la voce fuori campo. E dice, la morte è esattamente come la vita a Sin City, vince sempre. È vero, è vero. Ma quella battuta lui non l'ha detta, non muove la bocca. Ma no, l'ha pensata. Ma si sente il suo pensiero. Ma sì, è il pensiero. E della risposta telepatica. Che risposta? A chi? Alla ragazza dello squalo, papapapà, quattro, del 1987. Ma sì, adesso no. Ragazza dello squalo quattro. Si tuffa in acqua e pensa. Perché ho fatto il bagno e cazzo che ho appena mangiato. E quindi? Dopo 18 anni, Bruce Willis? No. Risponde a lei telepaticamente. Ma no, ma è un dio lì. Ma cos'è? Come mai i due figli non li fanno mai vedere uno dopo l'altro? Ma perché non si vedono due figli? Perché forse si capirebbe che tutto connesso telepaticamente. No, non credo. Secretare, io anticiperei l'appuntamento domani. Va bene, vengo domani. Domani però, ricordati che io ho una diretta dove spiego domani. Cosa? Che i dovi delle compagnie telefoniche hanno paura della telepatia. Ma cosa ti dicono? Potremmo noi parlarci senza l'usso smartphone. Ma non è vero. Ma non esiste la telepatia. Ci si può parlare attraverso l'usso dello smartphone? Sì, sì, certo. Telepaticamente invece no. Adesso lo dimostro. Io ora penserò una cosa. Qualcuno di voi a casa la capirà. telepaticamente. Io non... Sì, facciamo lo stesso esperimento. Via. Cosa fa? Lo sto pensando. Lo sta pensando, va bene. Non mi viene niente in mente. Come mai? Pensi qualcosa? Ma perché io la dico, poi nel momento... Però non penso, mi viene di getto. Devo aspettare che viene usciuto dal Vajagaru. Dal Vajagaru. Che il dio è delle frequenze che viene usciuto da soltanto. Va bene, va bene. È come voluta. È venuta la frase. Cosa vi ho detto telepaticamente? Ma cosa ne sappiamo? Gabo, hai pensato una volta ero un giornalista stimato. Zera. Forse dovrei tornare a parlare di musica. I bolognesi tutti hai pensato perché non mi chiamano mai il factor? Che cazzo dite bolognesi tutti? Ah, non ha pensato quello? Io c'ho la faccia di uno che pensa a queste cose. Poteva anche essere. Gabo, sì. Zera, sì. Ringo, sì. Pave, sì. Gini, sì. Cari biscotti, vi do un aiutino. Ho pensato una frase con quattro parole. Vabbè, cosa sono i mimi adesso? Prima parola. Ah, facciamo i mimi? Cosa sto facendo quando faccio così? Questi sono i mimi. Jumanji, apri un ventaglio. In effetti sembra... No, che cazzo c'entra il ventaglio? E che ne sappiamo? Cos'è che fanno in India? Cos'è che fanno in India? Brancolo, Richard Curry. Brancola, d'altra parte. Cosa cazzo c'entra il Sarcheri? Dai, è facile. Ma poteva essere. Che pesci prendere? Non so. Non so. Nessuno sa cosa fanno in India telepaticamente. Ma cosa ne sappiamo? Neanche quando la mimo, c'avete la telepatia. Perciò non abbiate capito che la frase che ho pensato è... Qual era? Collettivo a Senigallia. E chi lo poteva immaginare? Bettafur, 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 Bettafur. Io l'avevo capito quasi tutto, ma era incerta, fra Senigallia e Cagliari. Ma va, la sveglia. Lo so. Telepaticamente le frequenze certe volte scambiano Senigallia con Cagliari. Ma cosa sta dicendo? Per esempio, ci sono delle frequenze, quando telepaticamente, se tu telepaticamente, provate a casa. Eh, proviamo. Pensate a un confetto da comunione. Eh, eh. Gli altri capiranno Asciugamano Davide. Adesso ci proviamo tutti, a Natale. Sena mutare, io avevo l'esame di diritto penale a risposta di tutte le domande, telepaticamente. Eh, va bene, ma non male. Ma il prof che non mi ha saputo leggere nella mente mi ha segato. Ha fatto bene. Lo so. La stessa cosa mi è successa ieri al ristorante. Io l'ho provato ad ordinare telepaticamente vegano. Eh. Ho mangiato a tre grillate, mister. Ma bisogna parlare. Questo paese non è pronto alla telepatia. È il paese, è un problema del paese. Bratofili, valla a dire a tuo padre, stronzo. Chi è? Che è successo? Cazzo dici, Bratofili, cosa ha detto? Insisti pure, Bratofili. Ma cosa? Cosa succede? Bratofili, lo sai benissimo cosa mi hai detto telepaticamente. Ma le ha detto qualcosa telepaticamente? Non ho detto niente. Eh. Bratofili, no, tu hai pensato che io sono talmente basso che lungo i dei piedi me le posso mangiare da fermo il ginocchiato. No. Te lo giuro? No, non ho mai pensato. Lo stai dicendo tu. Ma cosa? Adesso vengo lì e ti gonfio. Ma no, ma perché? Ma cazzo, ragazzi, non devo pensare al mio indirizzo. No, ma perché sennò telepaticamente... Oh, mamma mia. Ho pensato al mio indirizzo. No. Ma è tutto telepaticamente. Ah, quindi funziona? Scusate, vada ad aprire manualmente. Vada ad aprire manualmente? No, Così, 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 Piccolo. Così, Piccolo, secondo me riesci a recarti anche il tallone. Tanto sei piccolo da fermo. Ma no, ma... Oddio, che è successo? No, Così, 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 Così. E ha sparato due colpi. Squilibrato. Uno al cuore e uno al fegato. Va, va. Vedete forse le sangue qui? Ma infatti non si è fatto niente. Non mi sono fatto niente. E certo. Perché? Perché? C'avevo i numeri sulla schiena. Ah, quelli. Ups.